Interviene Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. Continuano senza sosta ed a ritmi sostenuti, come dimostrano le fotografie allegate scattate ieri, i lavori di scavo per l'ampliamento delle infrastrutture di volo dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie Taranto. In questa fase sono interessati soprattutto il piazzale di sosta per aeromobili dell'aviazione civile Aprono Delta e della nuova taxiway T-Tango, parallela alla pista di volo 1735, che consentirà agli aeromobili di poter raggiungere le vie di rullaggio e di piazzali di sosta. Importanti strutture che consentiranno la regolare attività del traffico aereo, senza attese ed eventuali ritardi per le compagnie e per i passeggeri, in caso di movimentazioni contemporanee di più aeromobili. In dieci giorni dall'inizio dei lavori sono stati movimentati circa 15.000 metri cubi di terreno, scavati ad una profondità media di circa 60 centimetri. Apprezzando con entusiasmo il grande lavoro della società di gestione di aeroporti di Puglia, che si appresta ad ultimare i lavori nel più breve tempo possibile, continua Borracino, esprimo personale soddisfazione per questo investimento. L'ampliamento delle infrastrutture di volo con i lavori di ammodernamento dell'aerostazione passeggeri, questi ultimi in fase di istruttoria d'appalto, offriranno la possibilità alle compagnie aeree di sperimentare nuove tratte di collegamento con le maggiori città italiane ed europee, senza creare alcuna difficoltà operativa agli altri scali pugliesi. E conclude così Borracino, l'aeroporto di Taranto Grottaglie potrà contribuire allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio, anche grazie agli altri interventi che a breve saranno realizzati, come i lavori per il miglioramento funzionale della rete viaria esistente, che prevedono il collegamento dall'aeroporto di Grottaglie con la strada statale 7 Brindisi Taranto, lavori che saranno realizzati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, patto per lo sviluppo della Regione Puglia, con un importo complessivo di 12 milioni di euro.